Il leader della Lega, nel capoluogo siciliano in vista dell'udienza preliminare per il processo Open Arms, va in via D'Amelio. M5S. Offende un simbolo. Pochi mesi fa, a ridosso delle elezioni americane, aveva una mascherina pro-Trump. Sebbene ammetta per la prima volta la vittoria di Biden. Il fratello del giudice. Vomitevole passerella l'auto scortata da quattro macchine della polizia si ferma in via D'Amelio. Matteo Salvini scende e indossa subito la mascherina che gli consegna l'assessore regionale. Con trascorsi di destra, Alberto Samonà. C'è l'effigie del giudice Paolo Borsellino. Che proprio davanti a quel palazzo è stato ucciso da Cosa Nostra con cinque agenti di scorta il 19 luglio 1992. In assenza di comizi e bagni di folla, ecco la comunicazione politica che nella strategia salviniana passa anche attraverso le mascherine anti-Covid. Pochi mesi fa. Erano gli ultimi giorni di ottobre. Il leader della Lega si faceva riprendere con quella di Donald Trump. A ridosso del voto americano del 2 novembre. Nessun pentimento. Oggi, ci mancherebbe. Trump ha ricevuto il voto di 70 milioni di elettori. Se fossi stato americano avrei votato per lui. Detto questo. Condanno ogni degenerazione. Ogni violenza. Ogni arroganza. Ogni sopraffazione ad Pechino a Washington. Quella non è democrazia. Non è libertà. Un conto è il confronto politico. Aggiunge altro un conto le scene incredibili e imbarazzanti che rischiano di rovinare una presidenza positiva in termini economici e di accordi di pace in Medio Oriente. E comunque. In democrazia chi vince ha ragione. È finalmente l'ammissione. Il riconoscimento del presidente eletto Joe Biden. Chiara e lampante anche da parte di Salvini. Due mesi dopo le elezioni. Solo dopo la proclamazione. Ma a Palermo. Alla vigilia del processo Open Arms che si apre domani al Tribunale Penale. Meglio la mascherina con l'immagine del giudice ucciso dalla mafia. Me l'ha data il nostro assessore e ho ritenuto giusto indossarla. Ogni volta che vengo a Palermo ritengo un dovere civico e umano rendere omaggio a Paolo Borsellino e agli uomini alle donne della scorta. Mi sembra il minimo. Dopo il minuto di silenzio ai piedi del condominio in cui si è consumata la strage. Il segretario leghista si è spostato a Palazzo dei Normanni. Sede del Parlamento regionale. Per un incontro col neonato gruppo leghista che supporta il governatore Musumeci. Protesta il M5S che attacca il leader leghista. Il personaggio ormai è noto. Soprattutto nella sua propensione a mistificare e strumentalizzare. È bulimico. Ma non può permettersi di offendere i simboli dell'antimafia. Come ha fatto con la mascherina che ritrae l'immagine di Paolo Borsellino. Chieda scusa. Cerchi il senso del limite. Afferma Mario Perantoni. Presidente 5 Stelle della Commissione Giustizia della Camera. Pronta la risposta di Salvini che replica all'albergo delle povere. A margine di uno dei suoi incontri palermitani. Se qualcuno riesce a fare polemica anche sulla lotta alla mafia. È fuori dalla storia. M5S e PD mi criticano anche se bevo un caffè. Nel pomeriggio sulla vicenda interviene anche il fratello del magistrato. Da Salvini vomitevole passerella. Ha dichiarato Salvatore Borsellino.